Alla partenza Vincenzo Porrino in sella a Iliade della Bussière, 408 numero di testiera, secondo in campo Baddi. Grazie. Grazie. Riccardo Soave alla partenza in sella Baddi, 409, secondo in campo Gina, zero penalità per Iliade della Bussière, trentesimo binomio. Bussière, 408 alla partenza, secondo in campo Baddi. Bussière, 408 alla partenza, secondo in campo Gina, zero penalità per Iliade della Bussière, trentesimo binomio. Bussière, 409, secondo in campo Gina, zero penalità per Iliade della Bussière, trentesimo binomio. Bussière, con zero penalità, 26,11 il tempo. Alla partenza Riccardo Soave, Baddi. E va al comando, Michonne Mezzolan, con Wersal, zero penalità in seconda fase, nel tempo di 27,98. E va al comando, Michonne Mezzolan, con Wersal, zero penalità in seconda fase, nel tempo di 27,98. Alla partenza Riccardo Soave, Baddi. Gorghetti, Cogna, Arteoli. E Vincenzo Forrino va al comando, come al solito. Zero penalità, 26,19 in seconda fase. Alla partenza il numero 409 di Tessiera Baddi, Riccardo Soave. Provengono dal Veneto. Niccolò Bruna, in compagnia dell'istruttore. Niccolò Bruna, in compagnia dell'istruttore, è atteso in tribuna giuria. Presidente di Tesseria, contattare la Tesseria, grazie. 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 Zero le penalità di Iliade, ora Martina Line su Hunter Santimer, 448. Attenzione Nicolò Bruna, in compagnia del suo istruttore, atteso in tribuna giuria. Vincenzo Porrino su Iliade della Bussiera, numero 408. Grazie a tutti. Zero le penalità, 33 secondi e 06, il risultato di Iliade della Bussiera, Vincenzo Porrino. Ora due cavalli al termine, Alessandro Mariani su Spring and Pard, 428. Bisogna per forza di cose sottolineare i grandi meriti che in questi risultati rivestono non solo gli istruttori e i tecnici, ma anche i genitori naturalmente. Quindi tutti i genitori dei ragazzi che abbiamo in campo devono essere elogiati per il sostegno che danno ai loro figli e quindi anche all'equitazione italiana. Ora, tra poco, sarà la volta dei primi tre che vediamo già nel corridoio di accesso al campo Stacoli. Staccaria Belmolione, alla porta Belmolione, alla porta Belmolione. Nicole? Nicole? Adaro, ti sbridi di vendere in un'azione, di forza. Vola! Nicole? Siamo in attesa la fremente attesa dei primi tre che stanno per fare il loro ingresso in campo. Ci sono i messaggi che provengono dal campo prova. Va bene, mandali sui dati. Siamo in attesa 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 aiutare a tenere i trefoni sotto mano durante la premiazione di questo criterio. Bene, ecco, ringraziamo naturalmente le persone che hanno fatto il loro ingresso in campo per aiutare i ragazzi, partiamo. Partiamo dunque con la premiazione del criterio Manderundici, la terza posizione, il terzo posto in sella a Iliade della Bussiera di Vincenzo Porrino. Vincenzo dunque è atteso sul podio, Vincenzo fa piedi a terra e guadagna il podio. Poi la seconda posizione in sella a Spring and Bard, Alessandro Mariani. Alessandro Mariani, la seconda posizione per lui ed ora tendiamo sul gradino più alto del podio la vincitrice, la campionessa del criterium Manderundici, la medaglia d'oro di Elena Buffa. Elena Buffa, grande successo per lei, eccola. Abbiamo completato così i tre protagonisti di questa gara, ora la premiazione, la premiazione con la consegna dei premi a Vincenzo Porrino su Iliade della Bussiera, terzo posto per lui. La signora Vanna Sandrini, presidente di giuria di questo concorso, consegna la medaglia di bronzo. Ecco la medaglia di bronzo al collo di Vincenzo Porrino, che su Iliade della Bussiera ha ottenuto la terza posizione. Ed ora la medaglia d'argento va a premiare Alessandro Mariani, Alessandro Mariani Spring and Bard, per lui la medaglia d'argento sorride felice, giustamente Alessandro Mariani per il suo risultato. Ed ora la medaglia d'oro.